Ugo Tognassi è arrivato a leggere la Mazzurca del Barone della Santa del Fico Fiorone, copione al quale io ho collaborato come soggettista e come sceneggiatore assieme a Pupi e assieme anche in parte a Gianni Cavina, in una maniera molto molto casuale e quasi miracolosa. La moglie Franca Bettoia dovendogli preparare la valigia perché Tognassi stava partendo per Parigi dove avrebbe girato uno dei tanti film che in quel periodo si faceva, facevano questi grandi attori importanti, Mastroianni, Michel Piccoli eccetera con Marco Ferreri e li girava quasi tutti a Parigi il film. Allora Ferreri era diventato quasi un cittadino francese, appunto Franca Bettoia facendo la valigia a Tognassi gli mise il copione della Mazzurca dentro la valigia, della Mazzurca della Santa del Barone del Fico Fiorone, anziché un copione di Bevilacqua, di Alberto Bevilacqua, forse l'occhio del gatto, che Tognassi avrebbe dovuto leggere. Perché Franca Bettoia aveva a Torvajanica, nella casa di Tognassi e di Torvajanica, il copione scritto da noi, da Pupi, da Cavina e da me, della Mazzurca? Perché la sera prima Pupi era stato ospite del villaggio Tognassi a Torvajanica dove si svolgeva il torneo di tennis degli attori, dove giocavano a tennis gli attori ed era una cosa molto molto di moda che si svolgeva in tutte le stati di quegli anni lì. Pupi era andato col copione sotto braccio perché era d'accordo di darlo a Paolo Villaggio, perché il protagonista di quel film lì avrebbe dovuto essere Paolo Villaggio. Paolo Villaggio naturalmente nella sua distrazione, anche perché dava poco peso obiettivamente a questa proposta che Pupi gli piaceva, se lo dimenticò in casa Tognassi e successe questa cosa. Tognassi miracolosamente, non si sa perché evidentemente in una serata in cui non aveva niente di meglio da fare, sfogliò questo copione, lo lesse attentamente, se ne innamorò e chiamò in una sera che ricordiamo ancora come forse la più importante fra tutte le sere della nostra attività cinematografica o addirittura se parliamo di lavoro della nostra vita, chiamò da Parigi Pupi e disse sono Ugo Tognassi, Pupi già rimase sbagliato. Parliamo di un Tognassi che era il top della sua carriera, un Tognassi che aveva appena finito di girare Amici miei, aveva girato Romanzo Popolare di Mario Monniceli, aveva fatto dei film che erano stati dei successi, aveva fatto La Donna Cimia sempre con Ferreri, L'Ape Regina, aveva fatto dei film che erano dei successi clamorosi, come dire oggi numero uno e non saprei neanche Christian De Sitte, però con alle spalle dei film più importanti, più d'autore, non solo film popolari, quindi ancora più importante come figura carismatica. Allora Pupi riceve questa telefonata e Ugo gli dice signor Avati, ho letto il suo copione, vorrei farlo io, vorrei essere io il barone, il protagonista, glielo faccio gratis, lo vorrei fare in partecipazione perché ci credo molto a questa storia, però lei non deve girarlo subito perché io devo girare adesso prima il secondo Amici miei, poi un film in Grecia, un film con un regista tedesco, adesso non mi ricordo chi fosse girato in Grecia, e quindi il film lo dobbiamo fare l'estate prossima. Con Tognazzi, con un sito Tognazzi al quale facciamo firmare subito fra l'altro una specie di lettera d'impegno o qualcosa del genere, oppure si propose lui proprio di farcela in maniera assolutamente autonoma, senza nessun tipo di forzatura da parte nostra, trovammo subito naturalmente il produttore e il distributore, distributore nella Euro International Films che allora era la distribuzione più importante italiana assieme alla Cineriz, la Euro era come la Medusa oggi, la Cineriz era come la 0-1, ecco faccio due esempi, e poi trovammo il produttore che fu Giovanni Bertolucci che era il cugino di Bernardo, che era un grande produttore in quel momento, in quegli anni, perché stava producendo i film di Visconti, stava producendo il produttore del conformista del film di Bernardo, quindi mettemmo in moto questa macchina, per cui da quel momento, diciamo grazie a Ugo Tognazzi, noi abbiamo sempre lavorato, il film non fu un successo strepitoso al botteghino, quindi non arricchì certamente Ugo, non ne aveva bisogno perché era già ricchissimo, però andò decentemente a coprire spese, quindi Pupi diventò un autore che si poteva permettere da allora, parliamo del 74 mi sembra, di fare il suo bel film all'anno, cosa che abbiamo sempre fatto. Grazie. Grazie.